Gli Osage presero il nome dai fiumi Missuri e Osage. Niyukanska, figli delle Acque di Mezzo. Andate via, disse il grande padre Bianco. Ci sono tanti, tantissimi lupi affamati. Riesci a trovare i lupi in questa immagine? Riesci a trovare i lupi in questa immagine? Riesci a trovare i lupi. Riesci a trovare i lupi in questa immagine? Riesci a trovare i lupi. Riesci a trovare i lupi.